Finalmente un po' di tempo libero, quindi mi dedico alle mie passioni una bella recensione, il Ronin SC. L'ho già montato ed è già pronto all'uso, eccolo qua, lo vedete in tutto il suo splendore con anche un monitor esterno collegato. Feedback subito, io utilizzo solitamente un Gutsen Moza Air, la versione 1, siamo avanti, siamo molto più avanti della versione 1. La versione 2 purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di testarla, quindi non ho un metro di paragone, anche se in realtà ciò che più si avvicina al Ronin SC come paragone è il Moza Aircross 2, che è uscito anche quello da pochissimo. Tra l'altro come anche il crane nuovo, come il DJI Ronin SC, anche il Moza Aircross 2, hanno come trasportabilità questa valigia qui, identica, tutti e tre. Si vede che proprio la casa che ha prodotto le valigie per tutti e tre i gimbal è la stessa, uguali, identiche, spiaccicate, veramente. Allora partiamo intanto dicendo che è il modello con anche il follow focus, quindi il modello più completo dei disponibili, però la cosa che mi interessava principalmente era quella di testare il follow focus sia per il focus sia anche per la ruota dello zoom, cosa che funziona veramente bene. Non mi piace molto come è strutturato questo pezzo qua. Mi spiego meglio, ci ho messo mezz'ora a montarlo la prima volta, perché non l'avevo mai montato effettivamente, e l'ultima volta, è la terza per l'esattezza, perché è la terza volta che lo utilizzo. Ho provato a montarlo senza le istruzioni a mano e l'ho montato storto, quindi non è così intuitivo. Potevano fare, quantomeno all'interno della scatola, ma si sono limitati con le dimensioni, una location dedicata all'attacco, quantomeno per il motore, senza doverlo smontare ogni volta completamente. Cioè bisogna togliere tutte le viti, bisogna proprio smontarlo, oppure bisogna metterlo da un'altra parte, perché dentro alla scatola è tutto talmente compatto, stretto e perfettamente inserito al millimetro, che non ci sta altro se non appunto quello che vedete qua. Escluso anche il monitor, perché il monitor è nella borsa del computer. Cosa mi piace e cosa non mi piace di questo Ronin SC? Mi piace la portabilità, veramente un bel po', mi piace il fatto che abbiano finalmente deciso di dare in dotazione un treppiedi che mantiene il gimbal fermo quando si fanno le calibrazioni, mi piace in maniera incredibile il joystick e i suoi movimenti, vado ad accenderlo un attimo. Ok, mi piace tantissimo il grip della manopola, non mi piace per niente il fatto che non si possa cambiare la batteria, sul Moza Aircross 2, per esempio, qui si stacca e si può cambiare la batteria. Mi piace molto di più questo settore più semplice del Moza Aircross 2, perché c'è la possibilità tramite il pulsante M, la possibilità di cambiare l'utilizzo del gimbal, quindi in follow, il cable picchia che è bloccato, e la terza modalità che invece è FPV, quindi è libero anche in questo movimento qua. Queste sono tre modalità disponibili, ma se si entra all'interno dell'applicazione, che come al solito DJI ha fatto benissimo, si riesce a modificare e a creare dei preset dedicati per le tre memorie. Ovviamente il joystick ci permette di lavorare egregiamente e anche in maniera esponenziale, quindi se giro più veloce o se giro più lento ho la possibilità di lavorare molto bene. Mi piace molto il follow focus che può essere montato sia a destra che a sinistra, io sono mancino, esce con il follow focus a sinistra, ma io essendo mancino preferisco usare il braccio sinistro per tenere sul gimbal, che comunque ridiescherza tra il peso della telecamera e il peso del gimbal inizia ad essere abbastanza importante, e riesco a muovere tranquillamente il mio follow focus con la mano destra. Vedete che si muove il motore nel momento in cui muovo la rotella. Mi piace moltissimo la possibilità di collegarci un monitor esterno laterale, ma ho dovuto comprare un adattatore. L'ho dovuto comprare perché se mettevo il monitor esterno con i miei adattatori che utilizzo solitamente, andavo a rovinare i contatti che sono sotto alla piastra, che servono poi per interfacciarsi con il motore del Ronin S. Che altro posso dire? Mi piace molto, e in questo caso lo vado a spegnere per mostrarvelo, mi piace molto la possibilità di bloccare gli assi, cosa che è stata adottata da tutti i gimbal di ultima generazione, quindi si riesce a bloccare perfettamente il gimbal nei suoi assi, sia per un comodo trasporto all'interno della valigia, perché nel momento in cui si chiude e si bloccano gli assi, ha il blocco nella posizione di trasporto, ma anche perché nel momento in cui si va a fare la calibrazione dei vari assi, possiamo sbloccare un singolo asse alla volta e andare a calibrare solo quell'asse senza dover rimanere lì fermi a tenere la mano bloccata. Magari se vi può interessare farò un secondo video in cui faccio una calibrazione, vi spiego come si calibra anche questa macchina, anche se in realtà qui sopra trovate il link per vedere come si calibra un gimbal genericamente, l'avevo fatto con il Moza Air al tempo. Per quanto riguardano le prestazioni, posso dire che carica macchine sotto i 2 kg di peso, questa cosa è diversa in confronto al Moza Air Cross 2, che ha più o meno le stesse dimensioni, ma riesce a caricare sopra i 3 kg, quindi un bel po' di più in confronto ai 2 kg del Ronin S. Come limiti di rotazione meccanici, nella parte orizzontale ruota a 360 gradi, magari togliamo il monitor per mostrarvi come ruota, quindi in quest'asse ruota costantemente a 360 gradi, in quest'asse ruota ma ovviamente ha dei vincoli di dimensione della lente in questo caso, in quest'asse si ferma in questa posizione qua, da 95 a 220 gradi. Se invece dobbiamo impostare l'Inception Mode, quindi quello che ruota così, non c'è nessun problema, perché tanto la rotazione di questo asse è a 360 gradi. Altra cosa che non mi piace è che continuano a puntare di più su iOS che Android, tant'è che il Force Mobile funziona praticamente solo con Apple. Maledetti! Funziona il tracking, funziona molto bene, magari ci diamo un'occhiata, avrete visto centinaia di video, ma vi dico qualche feedback di quello che ho testato io. Mi piace la durata della batteria perché è stimata per 11 ore, però mi sta sulle scatole il fatto che non posso cambiare la batteria perché mi hanno obbligato a tenerla inserita qui. come si smonta, si smonta in questa maniera, ma non ho la possibilità di cambiare la batteria, cioè devo cambiare tutto il manico ed è una cosa che trovo alquanto insensata sinceramente. Anche questo gimbal ha un trigger qui davanti che ci permette di gestire, ad esempio nella posizione 1 che è questa, quindi quella in cui non abbiamo gli assi bloccati e riusciamo a girare in tutte le maniere. Nel momento in cui io premo il trigger, blocco completamente tutti gli assi. Altra cosa interessante è che si può utilizzare il follow focus in più modalità, addirittura con S-Bus, quindi potremo collegarlo a una radio esterna per esempio. E che altro vi posso raccontare di questo gimbal come prime impressioni? Direi che non ne ho tante altre di prime impressioni, mi sono rimasto felicemente colpito di come lavora, devo dire che è una bella macchina. È molto più portatile del mio vecchio gimbal anche come dimensioni di scatola. E dentro la scatola non c'è altro che quello che vi ho mostrato, se non in più il porta cellulare, questo accessorio qui, che può essere montato sopra alla telecamera, o comunque anche sul braccetto se volessimo utilizzare il telefono come monitor, se il telefono è in grado di replicare e di lavorare in wifi con la telecamera. Oppure appunto con l'applicazione del DJI riguardante Ronin, c'è la possibilità di collegare questo porta cellulare qui sopra ed andare ad attivare l'opzione di tracking del soggetto. Questa è molto interessante. Spero che vi sia piaciuto il video, se vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e continuate a curiosare all'interno del canale. Ricordatevi che il martedì sono online con la diretta per rispondere alle vostre domande. Il mercoledì escono le videoproduzioni, i test, le recensioni e i tutorial generali. Il giovedì escono le pillole di Da Vinci Resolve. Tutto ovviamente in questo canale. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!